Secondo me ce ne accorgeremo tra un po'. Adesso certo, guardando i numeri, avendo chiuso 80 punti, ci siamo resi conto di aver fatto una cosa veramente importante. Poi pure la riconoscenza che ci ha dato comunque la città di Frosinone è stato un grande regalo, ci ha fatto molto contenti, quindi già quello fa capire l'importanza di quello che abbiamo fatto. Luca, domanda banale, banalissima. Qual è stato il segreto di questo gruppo? Io penso che il segreto è stato quello di divertirci e andare al campo ogni settimana senza metterci in testa chissà qual'obiettivo, ma quello è venuto giornata dopo giornata, settimana dopo settimana. Noi se vinciamo se pareggiamo perché abbiamo perso poco, andavamo in settimana e neanche parlavamo di dove stavamo in classifica, ma solo avevamo voglia di lavorare, lavoravamo bene, forte. E quindi è stato proprio, diciamo, un settimana dopo l'altra che ci ha fatto capire. Fino al girone d'andata non lo puoi mai dire in Serie B perché abbiamo visto pure con la regina che ci può essere un crollo da un momento all'altro. Quindi il fatto di aver iniziato il giorno di ritorno con sei vittorie di fila e siamo arrivati a febbraio-mars, che abbiamo visto che eravamo lì con un bel po' di punti di vantaggio, allora lì abbiamo capito che dovevamo farcela perché avevamo creato un bel gap con le altre. Non posso far parlare io con le altre esperienze perché ovviamente non c'ero, però sicuramente il fatto di tenere magari un bella anima di questo gruppo, un bella, diciamo, ossatura potrebbe aiutare sicuramente a portare l'entusiasmo che avevamo quest'anno ad affrontare la prossima stagione che sappiamo che sarà difficilissimo. Però ovviamente poi adesso non sappiamo ancora i programmi di quello che sarà e quindi vedremo cosa succederà quest'estate, come imposteranno tutto il presidente, il direttore. Secondo me c'è tanta differenza. Tra la C e la B non tantissimo. Infatti spesso vediamo anche il doppio salto. E invece tra la B e la A secondo me il salto è bello importante, quindi c'è da arrivare belli pronti. È ovvio che non me l'aspettavo, ma penso non se l'aspettava nessuno perché era impossibile dirlo all'inizio. Ero un po' indicio su qualche altra squadra, però forse il fattore principale è stato il direttore Angelossi che già conoscevo, quindi sapevo la sua esperienza. Avevo visto la squadra che aveva fatto, aveva preso molti giovani interessanti che erano un po' una scommessa perché sappiamo che nel campione Serie B i valori delle squadre sono abbastanza simili, poi cambiano in base a piccoli dettagli. No, no, il ruolo del direttore è fondamentale perché è un'esperienza tale che si accorge prima degli altri di quello che potrebbe succedere, capisce molto bene i ragazzi giovani, come ragionano. Quindi sa usare anche a volte parole forti, magari dopo una prestazione, dopo un errore, oppure un ragazzo che fa benissimo, lui sa subito come farlo stare concentrato, non fargli montare la testa perché sappiamo i ragazzi che ha scoperto il direttore, la crescita che hanno avuto. Quindi su quello è stata una figura fondamentale, è sempre al campo, quindi anche al mister penso gli ha dato una mano importante, quindi è una figura importantissima. Io sono rimasto impressionato quando sono arrivato qua i primi mesi perché non mi aspettavo un livello di professionalità così alta. Cioè è la prima volta che mi capita che vado al campo un'ora prima e c'è tutta la squadra in palestra che sta facendo gli esercizi di prevenzione, di parte alta. Nell'altra squadra magari ci vanno sette, otto persone, chi sta in fisioterapia a fare due chiacchiere. Qua a livello di professionalità, dei ragazzi giovani soprattutto, che di solito magari sono quelli che adesso stanno più dietro al telefono, sono più distratti. Qua invece, questo è anche stato uno dei segreti secondo me, sono ragazzi che vogliono fare i giocatori, ma non i giocatori che vogliono uscire, vogliono fare i giocatori professionalmente quando vengono al campo e quindi questo in parte è stato anche dettato dai preparatori perché sono dei professionisti di livello molto alto che curano tutti i dettagli. Quindi magari quei due o tre ragazzi non vanno, li vengono a prendere e dicono che dobbiamo andare in palestra. Quindi sicuramente grande merito anche loro perché ci hanno fatto stare bene tutto l'anno. Grazie a tutti.